Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio! Che per il servizio ai poveri e la formazione dei Tuoi ministri! Hai ricolmato di virtù apostoliche, il santo presbitero Vincenzo dei Paoli! Fa che, animati dal suo stesso Spirito, amiamo ciò che Egli ha amato e mettiamo in pratica i Suoi insegnamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli! Si è santificato il Tuo nome! Venga il Tuo regno! Sia fatta la Tua volontà! Come in cielo così in terra! Dacci oggi il nostro pane quotidiano! Rimetti a noi i nostri debiti! Come noi li rimettiamo ai nostri debitori! E non ci indurre in tentazione! Ma liberaci dal male! Amen! Ave, o Maria, piena di grazia! Il Signore è con Te! Tu sei benedetta fra le donne! E benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù! Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori! Adesso e nell'ora della nostra morte! Amen! Gloria al Padre! Al Figlio! E allo Spirito Santo! Come era nel principio! Ora e sempre! Nei secoli dei secoli! Amen! San Vincenzo dei Paoli Pregate per noi!